Il giovane deve ricevere la memoria e piantare le radici della sua utopia in questa memoria, deve discernere nel presente la sua utopia e il segno dei tempi. Abbiamo bisogno di maestri di discernimento per i giovani, lo ha detto Papa Francesco parlando alla Commissione per l'America Latina. La Chiesa in America Latina deve preoccuparsi dei giovani e non disperdere le loro potenzialità. I giovani guardano a noi, sperano in noi, ha detto il Papa. L'utopia di un giovane entusiasta, oggigiorno, si sta trasformando in disincanto. A questi giovani disincantati è necessario dare fede e speranza, rispondendo alla vera e propria emergenza educativa oggi in corso.